Concessionari all'auto, a Montagna in Valtellina e a Delebio. Continua l'avventura dei nostri valtellinesi alle Olimpiadi di Pyeongchang. Dopo l'oro strepitoso di Arianna Fontana, conquistato martedì nei 500 metri di short track, oggi arriva un'altra bella soddisfazione nella casa italo-valtellinese. Irene Curtoni centra la top ten nello slalom coreano, bravissima a risalire dalla quattordicesima posizione della prima mancia alla decima della seconda, con un'ultima prova sciata in modo impeccabile. Un risultato eccezionale per la 32enne della Valgerola alla sua prima partecipazione olimpica. Da anni inseguiva il sogno a cinque cerchi, ma infortuni e stagioni altaninanti le hanno sempre impedito di realizzarlo. E invece deluso il fondista di Valfurva Mirko Bertorina, impegnato nella 15 chilometri a tecnica libera. Intervistato dalle nostre telecamere prima della sua partenza per la Corea, il 26enne ci aveva confidato che, per lui, raggiungere la ventesima piazza sarebbe stato già un successo. Purtroppo oggi è arrivato solo il 44esimo posto, a 2 minuti e 49 secondi, dal vincitore, il colosso Davide Cologna. Bertorina è severo con se stesso. Lo considera solo un punto di partenza, ha dichiarato i microfoni a fine gara, ed essere stato il miglior rappresentante della squadra azzurra è solo una magra consolazione. Solo 58esimo e 67esimo, infatti, i compagni di squadra Stefan Selger e Sergio Rigoni. Una giornata in chiaro scuro, dunque, per la Valtellina in Corea. Ma domani i tifosi sono pronti per una nuova giornata spettacolare. La regina del ghiaccio Arianna Fontana è decisa di infucare la pista di Short Track nei 1500 metri. Grazie. Grazie.